L'obiettivo di raggiungere quota zero consumo di suolo entro il 2050, fissato da Regione Lombardia, detta le regole per la realizzazione di nuovi edifici, sia civili che industriali. L'impostazione, sempre più diffusa anche nel resto del paese, rende la demolizione lo strumento chiave per poter riutilizzare le metrature già coperte. Il processo, tuttavia, va concepito in modo profondamente innovativo. Non bisogna infatti distruggere, ma bisogna decostruire, al fine di andare poi a fare una demolizione sicuramente ecosostenibile e rispettosa dell'ambiente. È fondamentale che i materiali derivanti dalle opere di demolizione siano selezionati prima della demolizione totale. Solo così, infatti, sarà possibile avviarle a riciclo. Tra gli strumenti per farlo c'è la demolizione selettiva, che prevede una rigorosa classificazione dei materiali prima della demolizione e la loro separazione in frazione omogenee già durante la fase iniziale della demolizione, al fine di favorirne il recupero. Ma la gestione dei rifiuti rappresenta solo una delle criticità da affrontare in un cantiere. Bisogna fare attenzione alle polveri, quindi in cantiere dovranno essere utilizzati dei mezzi di nebulizzazione delle polveri, dei sistemi per monitorare e valutare in corso d'opera le vibrazioni che si possono propagare all'esterno del cantiere e il rumore. Fondamentale è l'elaborazione di un progetto di demolizione ad hoc che consenta di migliorare l'organizzazione del cantiere. La progettazione di un intervento di demolizione è fondamentale. Ogni cantiere è un cantiere a sé stante. Dipende dalla localizzazione dell'intervento, dalle dimensioni della struttura del manufatto da demolire, dalle condizioni ambientali al contorno, dalla tipologia dei manufatti da rimuovere. Quindi ci sono diverse tecniche di demolizione che vanno dal piccolo escavatore radiocomandato al grande escavatore di 900 quintali o di 1000 quintali di portata. Altrettanto fondamentale è che l'impresa a cui ci si rivolge per una demolizione abbia una struttura di project management che controlli durante tutto l'andamento del cantiere se gli obiettivi definiti nel progetto vengono rispettati. Un aspetto che deve essere determinante nella scelta dell'impresa a cui affidarsi è l'attenzione posta sulla sicurezza. Molte volte le regole riguardo alla sicurezza vengono applicate solo su carta. È fondamentale che il committente scelga delle imprese, delle aziende che riescano a portare queste regole anche in cantiere.